Ma? Ma? Che c'è Martina? Mi fa male qua sotto. Qua sotto? Fammi controllare un attimo. È arrivato il tuo giorno. Sì, sì sì. Tiziana? Ciao, ciao. Lo sai che la bambina è diventata signorina? Sì, grazie. Sei da sola a con tutti e tu. Dillo a tutti. Dillo a tutti. Teresa, pronta? Ciao. Ascolta, lo sai che la bambina è diventata signorina? Dillo anche a tuo marito. Diggielo. Mettimi in viva voce. La bambina è diventata signorina. Buonasera. Interrompiamo le trasmissioni per un'edizione straordinaria del TG1. Perché mia figlia Martina è diventata signorina.